Ci sono delle giornate in cui ti alzi e sei già stanco, ti vesti e non c'hai voglia di fare un cazzo, fai colazione, parti già male. Ci sono delle giornate in cui ti alzi e dici ma che cazzo mi sono alzato a fare io oggi. Allora pensi ci vorrebbe un amico no? Sì però amici ne hai tanti ma quelli veri sono pochi no? E li vorresti qui adesso subito perché oggi è il giorno in cui in cui non ci stai, in cui non hai voglia, in cui sei stanco, in cui dici ma che cazzo mi sono alzato a fare. Ecco quando arrivano quelle giornate io penso al fatto che un amico ce l'ho ed è un amico che rispetto molto, il mio cuore. Perché quando sono triste penso al mio cuore, lui mi porta in giro, mi fa osservare, respirare, emozionare, capire e anche sbagliare. Ma sia che sia triste o felice, sia che sia stanco o riposato, lui lavora sempre, non si ferma mai, continua a battere, trova sempre la forza di reagire all'istante. E lo sai perché? Ma perché non ci sta mai a pensare troppo su? Se si fermassi a pensare anche solo qualche secondo sarei morto. Così quando sono triste, giù di morale, non ho voglia di fare nulla, mi rialzo e reagisco all'istante per rispetto del il mio cuore, il mio amico, il mio amico.